Una stagione da incorniciare per la campionessa senigalliese di pattinaggio, velocità, rotelle e ghiaccio Camilla Zazzarini, classe 2008, che nella stagione corrente ha ottenuto numerosi successi sia a livello nazionale che internazionale. Camilla al momento vanta otto medaglie d'oro federali per titoli italiani tra gare singole e combinate, due argenti e un bronzo. L'abbiamo incontrata a Senigallia presso il Circolo La Fenice a un evento organizzato dal Panathlon Club Senigallia. Io ho iniziato sette anni fa a pattinaggio su ghiaccio, nel 2015 precisamente, perché ci è capitato per caso. E poi abbiamo notato che comunque allenandoci su ghiaccio miglioravamo anche su rotelle, la tecnica, le spinte. E adesso molta gente sta facendo questo passaggio, sia un po' per seguire anche gli altri, poi perché notano che ci sono più posti di lavoro, più possibilità. E a me personalmente piace anche di più. Mi piace molto di più fare pattinaggio su ghiaccio, anche per le gare, tutto in generale, anche la federazione. È proprio un ambiente totalmente diverso e il sogno olimpico ce l'avevo anche su rotelle, però è realizzabile momentaneamente solo con la federazione del ghiaccio. Farò un pensierino al Panathlon Young quando sarò un po' più grande.